E quando ebbe mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami tu più di questi? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. E Gesù gli dice, pasci i miei agnelli. Per la seconda volta gli chiese, Simone di Giovanni, mi ami tu? Pietro gli rispose, sì, oh Signore, tu lo sai che io ti amo. E Gesù a lui, pasci i miei agnelli. Per la terza volta gli chiese, Simone di Giovanni, mi ami tu? Si contristò Pietro che per la terza volta gli avesse chiesto, mi ami tu? E rispose, Signore, tu sai tutto, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse, pasci le mie peccate, corelle. In verità, in verità ti dico, quando eri più giovane, ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai invecchiato, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Ora disse questo per significare con quale morte egli avrebbe reso gloria a Dio. e dopo di ciò gli disse, seguimi. Pietro, voltatosi, si vide vicino il discepolo prediletto da Gesù, quello che nella cena posò sul petto di lui e disse, Signore, chi è il tuo traditore? Ora, vedutolo, Pietro disse a Gesù, Signore, è di lui che ne sarà. Gesù rispose, se io voglio che resti finché io non ritorni, che te ne importa? Tu seguimi. Si sparse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non morrebbe. Gesù però non disse non morrà, ma se voglio che egli resti finché io non torni, che te ne importa? È questo il discepolo che attesta tali cose e le ha scritte, e sappiamo che la sua testimonianza è verace. Poi gli undici discepoli andarono in Galilea al monte designato loro da Gesù. Vedutolo colà, lo adorarono. E Gesù accostatosi disse loro, Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque ad ammaestrare tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. E disse loro, Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Chi poi non avrà creduto sarà condannato. Ora questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. In nome mio scaceranno i demoni, parleranno nuove lingue, maneggeranno i serpenti e se avranno bevuto qualche veleno non farà loro male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Così Gesù, dopo la sua passione, si fece vedere vivo dai suoi discepoli, dando ad essi numerose prove della sua risurrezione, colà parire a loro per 40 giorni e parlando di quanto riguarda il Regno di Dio.